a partire da questo momento presidente guardi bene lì allora allora presidente vorrei dire semplicemente questo che dinanzi alla gravità dei fatti che ciascuno riesce ad avvertire penso qui tutti tutti vi è però un atteggiamento e una ignoranza della realtà italiana ed europea che mi fa paura la colpa è sempre degli altri e allora voglio dire che io rivendico il dovere e il diritto di autoaccusarci a Roma a Napoli abbiamo governato noi da 15 anni a Roma a Napoli e in tutta l'Italia si è sviluppata una campagna televisiva vergognosa si è passati dal 10 al 24 per cento della informazione televisiva nel denunciare i crimini creando una psicosi di paura allora signora presidente voglio solo dire dove non c'è democrazia non c'è pace per i rom ma nemmeno per gli italiani l'Italia non è una democrazia non è uno stato di diritto a partire da questo si può lottare si può sperare altrimenti con le buone coscienze a buon mercato di troppi di noi no